Il mio nome è Emi, Claudette, Spepola, Mascagni ed ho 15 anni. Emi, Emi Mascagni. Il mio babbo si chiama Pietro Mascagni ed è un musicista molto famoso, un artista. Compone opere musicali che bravissimi cantanti interpretano sui palcoscenici di tutto il mondo. No, Spepola, non così! Come fai il babbo ad insegnarti la musica se non stai ferma? Come vorrei essere una giovane parigina! È D'Annunzio! Lui è Gabriele D'Annunzio! Due uova a bere per D'Annunzio e un po' di carpano con acqua di bianco per babbo. Piano con quella bacchetta! Devi imparare a tenerla ben stretta! La musica è viva! E devi afferrarla subito per non lasciarla andare via! Mai! Ciao! 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 Ciao!